Si chiama Abire Sabigliasin, il 28enne di origine marocchina, condannato a due anni e sette mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio in concorso, porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di reati commessi a Sasso Corvaro e Vallefoglia nel mese di dicembre dello scorso anno, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo nella notte fra il 23 e il 24 novembre. Il giovane è ritenuto responsabile, insieme ad altri tre extracomunitari, del tentato omicidio ai danni di un 32enne. La vittima era stata rinvenuta con diverse ferite da arma da taglio all'altezza di organi vitali e a seguito delle indagini i carabinieri di Urbino avevano catturato gli autori, tutti poi condannati con patteggiamento alla pena di tre anni e due mesi di carcere. Sempre nella serata del 23, i militari hanno aumentato i controlli, in particolare all'uscita dei caselli autostradali di Pesaro, Fano, Marotta e sulla strada statale 16. Sono stati controllati 130 veicoli e 250 persone. I carabinieri del nord di Pesaro hanno denunciato in stato di libertà un 24enne di origine albanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivi di arma da taglio. L'uomo, insieme ad altri due connazionali, era a bordo di un'auto condotta da un italiano residente a Rimini ed è stato trovato in possesso di poco più di un grammo di cocaina già suddiviso in dosi e di un coltello a serramanico. L'autista del mezzo, invece, trovato in possesso di Ascice, è stato segnalato alla prefettura col ritiro immediato della patente di guida, mentre l'albanese denunciato ed uno dei suoi amici, entrambi clandestini, sul territorio nazionale, sono stati espulsi e accompagnati alla frontiera.